CNF partecipa alla fiera internazionale del bovino da latte a Cremona da ormai 40 anni è un appuntamento importante per noi, per il mercato italiano, è un momento di grande interesse quest'anno in particolar modo è un appuntamento ideale per confrontarci con gli allevatori italiani una manifestazione su quale noi puntiamo particolarmente sia per noi come aziende e anche per i nostri concessionari sul mercato nazionale oggi è la prima giornata, è presto, vediamo i prossimi giorni, siamo fiduciosi soprattutto anche per questa nuova veste come giorni, differente da altri anni quindi speriamo bene e siamo positivi grazie